Buongiorno a Tuleman Direzione mercato ci riprovo stamattina sperando non ci sia nessuno e vediamo come va, tanto io peggio di come sto andando non posso e allora come si dice in bocca al lupo? Bon courage! Bon courage! Ecco quando avevo detto che non poteva andare peggio di così in realtà è andata peggio di così come al solito è meglio se mi sto zitto queste cazzo sono le cose che mi fanno rosicare di più in assoluto perché in 5 minuti avevo fatto già 6 euro e 85 quindi poteva essere una buona piazza tranquilla e niente la polizia mi ha detto che non posso suonare mentre inizialmente mi ha detto che non potevo suonare solo qui poi ha detto che non posso suonare ovunque non lo so a me queste cose mi danno molto fastidio molto 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 fastidio cioè io cerco testa nelle regole scarico il regolamento il regolamento mi dice che io qua ci posso suonare ho visto altra gente che ci suona e tu arrivi e mi cacci non lo so non mi convince e niente dopo essere stato indirizzato verso l'ennesimo dipendente comunale che oggi non lavora mi hanno detto ti fai una richiesta online e mandare l'email ma ovviamente non ti risponderanno mai io non lo capisco, non lo capisco veramente mi sembra tutto troppo complicato mi obblighi a chiedere un'autorizzazione dove io devo mettere nome e cognome i miei dati e poi tu che ci fai con quei dati? no, non lo capisco non lo capisco veramente ho completato il form online quindi ho ufficialmente fatto richiesta per l'autorizzazione a suonare in strada io ho fatto il massimo che posso fare ho scaricato pure il regolamento aggiornato che sempre fermano di nuovo gli dico io ho fatto richiesta se non mi rispondono che devo fare ovviamente non lo capisco non prega niente per cui non ci provo gli stessi e niente, mi hanno racciato anche stavolta l'unica cosa che a me da sempre fastidio è come al solito i tempi una giornata intera per andare in tutti gli uffici chiedere l'autorizzazione ho fatto il form online e tutto perché non basta? cioè perché non deve bastare? perché non deve essere una cosa veloce? secondo me è giusto che ci sia magari un regolamento per gli artisti di strada se io non le rispetto allora tu mi prendi e mi fai la multa o quello che vuoi ma perché devo essere registrato? che senso c'ha? mi fa... mi passa quasi la voglia tutta sta trafila per poter suonare io lo voglio fare in regola voglio farlo in regola da me la possibilità di poterlo fare vado all'ufficio vado alla polizia ti dico guarda io so questo c'ho l'amplificatore c'ho la chitarra poi io suonare per strada si, firma sto foglio a posto, ciao e invece no tutto complicato tutto complicato con l'abbigliamento estivo con l'abbigliamento estivo we go to the beach yeah e com'è quella canzone? vendita rapida Plasma Sena perché l'avevi riconfortata prima quindi quanto abbiamo fatto? altri 12 non è male che c'è Chiara che lavora pure per me ora andiamo in spiaggia? Finito eccomi dopo la mia mattinata sto tornando in ostello sono molto contenta anche per il feedback umano che ho avuto oggi e mi da sempre tanta soddisfazione il risultato è 56 Sono contenta anche perchè ho avuto una piccola commissione per domani, mi ha fatto molto piacere. 7,60 per questi coni che li fanno loro? Sono bellissimi tipo waffle, con la piastra waffle e poi hanno un cono, un cilindro per girarlo. Io ho preso lavanda e violetta. Io ci riprovo perchè oggi c'è tanta tanta gente in giro e però mi metto in un posto un po' più isolato sperando che ci sia comunque tanta gente. Vediamo se va bene dai, pure se mi metto fuori insomma. Andata, per fortuna qua non è passato nessuno. Quindi ho potuto fare la mia performance senza interruzioni. Non è andata benissimo, insomma 21,50€ neanche malissimo. Poteva andare meglio essendo un sabato pomeriggio. Però sono contento, sono contento soprattutto della prestazione. Un set molto tranquillo, rilassato, con questo mare davanti. Secondo me ha creato una bella atmosfera. Bello? Bello no, sono stato molto contento. Mi è piaciuto questo posto. Certo, avessi fatto un po' di più sarebbe stato perfetto, però anche così diciamo va bene dai. Contento, contento. Non so se domani provarci, ma valuteremo. Prova a respirare senza limiti Guardami, riesci a immaginare soli liberi Per il nostro canale, è un po' di più sarebbe stato perfetto, ma valuteremo.